ah no adesso non glielo dico più perché sennò la fanno a trotta a zero andiamo e ormai sta il trucchetto basta vedi il seguitore vedi le cazzate cioè voi non le pensate ma quando metti le zone tutte quelle cazzate lì questo va bene questo fai già più ma anche quella lì vedi come ti frega ma gli hai detto che in cambio è l'uccellino dentro dentro non fuori dentro dentro non 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 che io ti sento del topo fuoco che ci trova zero